Guardi, io sono assolutamente con il Presidente del Consiglio, quindi sarà una scelta sua. La cosa, se avverrà così, sono assolutamente, come dire, non ci vedo niente di strano. Le quote le tiene, le quote le spiega, per capire. Certamente. Certamente. Ma sui bagnari che fate, sulle concessioni? Perché a questo punto si apre la partita, no? Abbiamo appena detto che se non ho le deleghe... Beh, però insomma rimane un Ministro di questo Governo. No, no, Ministro del Turismo, Ministro del Turismo, diciamo, è una questione pertinente. Io invece parlerei del grande discorso che ha appena fatto il Presidente del Consiglio, che è stato veramente un discorso che ha fatto la storia. Oggi è stata scritta una pagina di storia. Ok, sulle concessioni però la pagina? La scriveremo presto.